Buonasera, buonasera, bentornati su TCS Trecosta, Smeralda, il mezzo, nella nuvola di parole di questa estate, quella che rimarrà sicuramente di più ai caro prezzi. Noi aggiungiamo anche continuità territoriale a questo proposito. Oggi Solinas e Moro sono recati a Bruxelles, l'Unione Europea è pronta ad accogliere le nostre istanze, hanno incontrato anche la commissaria Veran, intanto spunta ancora una volta la possibilità di una compagnia aerea Sarda. Vediamo. È stato più che positivo il dialogo tanto atteso tra il presidente della regione Cristian Solinas, l'assessore dei trasporti Antonio More, la commissaria europea ai trasporti Anna Vallean. Incontro avvenuto a Bruxelles e sul tavolo il dossier Sardegna, le criticità del sistema di continuità attuale e l'ipotesi di un nuovo modello futuro più aderente alle esigenze dei sardi. Forse anche la possibilità di aprire una compagnia targata a Sardegna. Un esito positivo che ha avuto il merito di avere finalmente avviato un dialogo aperto e franco con la Commissione Europea Trasporti, sempre critica nei confronti dell'isola o quantomeno delle deviazioni alle leggi sul libero mercato. A fronte delle criticità emerse sul sistema attuale, la commissaria ha promesso un sì agli aiuti diretti alle compagnie attraverso il taglio delle tasse aeroportuali e quindi anche un sì al provvedimento appena approvato in Consiglio regionale che ha stanziato 25 milioni di euro per le compagnie che apriranno nuove rotte dai per l'isola. Altra valutazione positiva arriva al secondo punto del modello portato a Bruxelles da Moro, la sperimentazione degli aiuti diretti ai passeggeri e una gestione degli oneri di servizio pubblico più flessibile e aperta. Tra le cose dette in questo confronto a tre, anche la possibilità di creare una flotta aerea sarda, il sogno carezzato da anni. Come la Corsica che vola su Aircors, con un vettore gestito direttamente dalla regione, sarebbe più facile porre in campo azioni correttive alle fluttuazioni del mercato. E la commissaria lo sa. Una discussione con la principale autorità europea in tema di trasporti, mentre Ryanair, la più importante compagnia in Italia per numero di passeggeri, precisa di non voler accettare in posizioni dall'alto una velata minaccia, che è stata accompagnata dal nullamento improvviso della conferenza stampa prevista per domani e nella quale la compagnia avrebbe dovuto presentare la stagione invernale dei voli dai per l'isola. Coincidenza. L'appuntamento è stato rimandato subito dopo l'approvazione da parte del Consiglio regionale dell'abbattimento delle tasse aeroportuali e l'annuncio di Moro di voler porre un tetto alle tariffe dopo gli scandali e lo sdegno suscitato da alcuni prezzi praticati ai viaggiatori desiderosi di approdare nell'isola. Già l'isola, il turismo, segmenti nuovi come il turismo itinerante, 70 i comuni che hanno già preso anche dei finanziamenti attraverso dei bandi regionali per cercare di creare servizi a re di sosta. Intanto a ottobre il festival del turismo itinerante. Vediamo i servizi. La Sardegna punta sempre di più sul turismo itinerante. Sono oltre 70 i comuni isolani che negli ultimi due anni hanno ottenuto finanziamenti attraverso i bandi regionali per aree attrezzate di sosta di caravan e autocaravan. Il Consiglio regionale lo scorso anno aveva dato proprio il via libera di una legge bipartisan sul turismo en plein air, prevedendo in particolare la realizzazione di questi spazi per i camper, così che l'isola è stata la prima regione in Italia a consentire una sosta da 48 a 120 ore, offrendo alle amministrazioni comunali la possibilità di ottenere dal governo regionale contributi fino a 50.000 euro. Una legge che mancava per regolamentare un settore che invece è fondamentale per la promozione della Sardegna. Quindi è stato abbastanza facile convincere i vari presentatori delle proposte di legge a fare un testo unico che poi è stato condiviso e votato all'unanimità nella Commissione e poi anche in Consiglio. Serviva una regolamentazione, serviva a dare le possibilità a chi sceglie di frequentare di vivere la nostra Sardegna, la nostra isola in questo modo, serviva che ci fossero all'interno delle comunità, quindi dei comuni, delle aree attrezzate. Lo sforzo è già stato fatto ma non basta, bisogna sicuramente aumentare e implementare quelle che sono le risorse da mettere a disposizione, in maniera tale che il servizio sia completo e soprattutto su tutto il territorio. Ripeto, è un'attenzione condivisa quindi non c'è nessun problema anche con i colleghi della minoranza per portare avanti queste opportunità. Le aree di sosta devono essere fornite di un erogatore di acqua potabile, la colonnina automatica per le energie elettriche, i contenitori per la differenziata, un impianto di videosorveglianza e un sistema antincendio. Staranno in comune ad individuare le aree nei proprio territorio e molti sindaci sardi non hanno perso tempo, cogliendo l'opportunità di sviluppo data dalle cosiddette vacanze green, con un'adesione capillare dal nord al sud dell'isola e tante nuove aree pronte ad ospitare gli appassionati del turismo all'aria aperta. 18 sorgeranno in provincia di Oristano, 15 nel Sassarese, 12 nel Nurese, altre 11 nel Cagliaritano e ulteriori 7 in Ogliastra e nel Medio Campidano, con i centri dalle zone interne che fanno ovunque la parte del Leone. Noi siamo in un periodo un po' particolare e importante, sulla base della nuova legge regionale che ha finanziato la realizzazione di aree sosta, con le ultime due annualità si stanno realizzando 79 aree sosta camper in giro per l'isola, che è un risultato indubbiamente importante perché permetteranno di creare una mappa sempre più densa in grado di accogliere i camperisti che vengono da fuori dall'isola, ma anche i camperisti sardi nell'arco di tutto l'anno. Questo elemento è un elemento assolutamente importante e incoraggiante. Tra l'altro la legge prevede ulteriori passaggi per cui possiamo immaginare che nel giro di un biennio, di un triennio, avremo una mappa davvero interessante. Credo che bisogna pensare adesso a realizzare un vero e proprio repertorio delle aree sosta per rendere fruibili e visibili innanzitutto queste opportunità notevoli, notevolissime, certamente per tutto il territorio dell'isola, ma in particolare per le zone interne, quelle che sono meno, più sprovviste diciamo, di luoghi di accoglienza adeguati. Ma per scoprire e conoscere più a fondo il turismo camperistico all'appuntamento e adozieri che da venerdì 6 a domenica 8 ottobre ospiterà la quarta edizione del Festival del Turismo Itinerante delle Attività Ludico-Sportive all'Area Aperta, manifestazione organizzata dall'Associazione Camperisti Torres con il sostegno del Comune, dell'Unione dei Comuni del Logodoro, della provincia di Sassari e della Regione della Camera di Commercio di Sassari attraverso il programma di promozione turistica Salù del Trigo. Da itinerante a fluttuante ai Sardi, ai Sardi piace molto il commercio online, oltre il 40% negli ultimi tre mesi, tra 8 o 40% oltre 648 mila transazioni per gli acquisti. Vediamo. Tempi, tempi moderni e globalizzazione, anzi internocrazia. La rete, il commercio e i Sardi che comprano, spendono e aumenta. Aumenta il commercio elettronico 40.5% dei Sardi, ben 648 mila persone a effetto acquisti online e-commerce, come si dice spesso, oppure nella Trecani, riavolgendo il nastro della memoria. Neppure 5 anni fa, nel 2018, erano 285 mila i Sardi che acquistavano in rete 363 mila utenti in più. Una fotografia curiosa, anzi impietosa per i cosiddetti servizi terrestri, i negozi, insomma, e non solo. Analisi scattata e realizzata dall'ufficio studi di Confartigianato Imprese Sardegna sull'utilizzo dell'e-commerce nell'isola su fonte Istat 2022-2023. I numeri, si sa, sono importanti e mettono l'isola a metà della classifica nazionale, sull'uso di internet per fare acquisti. In Lombardia si arriva a quasi 5 milioni di persone che comprano online, il Veneto supera i 2 milioni, il Lazio 2 milioni e mezzo. Maria Maria Lai, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, sintetizza come la pandemia abbia creato e allargato il fenomeno. Non solo, dal report emerge come i Sardi per il 62% comprino abbigliamento e scarpe, il 28% articoli per la casa, il 23% pc e cellulari, il 22% film, per 21 libri, riviste e giornali cartacei, 20% cosmetici, per il 18 articoli sportivi, 17 pasti e cibo delle rivendite di prossimità, 16% farmaci, 15 abbonamenti internet, 14 giocattoli, articoli per l'infanzia, 13 musica, 12 biglietti per i concerti, il 9 tv stereo, macchine fotografiche, software per il 7%, 6% giochi online e 5 ebook e giornali online. L'analisi sulla nostra isola dice ancora che se da una parte il vincitore è il web, dall'altra il commercio tradizionale fatica. Nell'e-commerce le vendite sono cresciute del 25% in 5 anni, al contrario il valore delle vendite al dettaglio ristagna con una variazione del meno 0,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente con la tenuta della grande distribuzione, più 0,8% il calo delle vendite delle imprese operanti su piccole superfici. Le imprese sarde, che vendono online, le criticità sono segnalate e nonostante questi buoni numeri tra le imprese è ancora bassa la propensione infatti a effettuare vendite mediante il commercio elettronico, già una nuova era ormai iniziata a tanto tempo fa, ormai esplosa. Che, chi osa, la presidente del confattigionato Salvegna, non nasconde tante insidie a cominciare dal crescente peso assunto dalle mega piattaforme estere di intermediazione di beni e servizi che necessitano sempre di più di interventi sulla web tax in relazione agli squilibri tra ricavi e prelievo fiscale. È come darle torto. E Cagliari gioca ad anticipo con questa figura professionale molto importante anche di utilità sociale, l'assistente pedonale. Vediamo! Rote ferme pedoni salvi, con questo slogan è stato presentato a Cagliari presso lo storico palazzo di Via Roma, il progetto promosso dall'Associazione Familiari e Vittime della Strada, in stretta collaborazione con il Comune di Cagliari. Nasce soprattutto per gli utenti deboli, per i pedoni. Nasce l'assistente pedonale, o meglio nasce a Cagliari perché questo progetto è attivo sul Torino e su tante altre città d'Italia dal 2021, Cagliari è l'ottava città d'Italia. Finalmente portiamo questo progetto anche qui, siamo molto contenti, molto soddisfatti di questa risposta dell'amministrazione comunale, quindi i nostri utenti in messa alla prova, coloro che devono svolgere i lavori di pubblica utilità ai fini della messa alla prova o comunque per una condanna, ad esempio per una guida in stato debrezzo o una lesione stradale, diventano assistenti pedonali, vanno a tutelare i pedoni sul luogo che dovrebbe essere più sicuro e invece a volte si rivela il più pericoloso, le strisce pedonali. Come nasce questa intuizione sociale? Su Cagliari nasce in seguito all'incidente di Daniele Ulver, il bambino che purtroppo in via Cadello è stato investito e ucciso qualche anno fa. Questo progetto vuole comunque essere anche in memoria di Vincenzo Ceravolo, un altro ragazzo che purtroppo è stato falciato sulle strisce pedonali a Quarto Sant'Elena, insomma i pedoni non sono al sicuro, non sono al sicuro neanche sulle strisce pedonali e allora abbiamo voluto coniugare questo progetto di rieducazione, di riparazione perché queste persone sono in misura alternativa con un progetto di utilità sociale, quindi tutela per i pedoni. Il progetto getta le basi su un protocollo siglato con l'amministrazione che prevede l'istituzione della nuova figura dell'assistente pedonale. L'obiettivo è quello di, con questo progetto, ruote ferme e pedoni salvi, non di eliminare totalmente il rischio perché è impossibile, però da un lato di ridurlo con degli assistenti pedonali che aiuteranno le persone ad attraversare in luoghi particolarmente pericolosi e ovviamente quello anche di educare e sensibilizzare i cittadini. Tracciamo un profilo invece sulla vostra struttura organizzativa. La nostra associazione è attiva dal 2009 in tutta Italia, in questi anni abbiamo fatto tantissime attività, questo progetto, lo ricordo, ha ricevuto il patrocinio del Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia e dell'Anci e quindi tutte queste, anche le nostre campagne, sono patrocinate dai ministeri e questo ci spinge ogni giorno in più a fare meglio per la sicurezza stradale. Due parole su Cagliari. Cagliari ha un problema legato soprattutto all'utenza debole, abbiamo visto che negli ultimi anni sono aumentati gli incidenti che hanno coinvolto i pedoni e quindi un progetto di questo tipo si rendeva veramente necessario. Le vorrei chiedere però se le piace Cagliari. Molto, voglio visitarla ancora meglio di come ho fatto finora. Turismo e sport, sport e turismo, ultramaratona a Cagliari di notte con il pluripremiato Giorgio Calcaterra, vediamo. E' più di una corsa che va oltre anche la gara e l'agonismo perché la Cagliari Urban Trail è una vera e propria festa dove si partecipa e si fatica ma immersi nell'atmosfera magica e illuminata delle stelle del capoluogo alla scoperta della bellezza della città by night. L'appuntamento per sabato prossimo si parte alle 21.30 e uno dei protagonisti sarà certamente Giorgio Calcaterra, tre volte campione del mondo di ultramaratona. Il 51enne romano torna quest'anno al Cagliari Urban Trail, l'evento podistico organizzato da Gles Sport e c'è da scommettere che darà del filo da torcere agli altri iscritti, forte del successo in gara nel 2017, piazzandosi poi secondo, due anni dopo, alle spalle di Walid Abdelkader. Il 9 settembre 2023 sarò a Cagliari per correre uno splendido Urban Trail, un Urban Trail che ho già avuto l'occasione di correre e quindi che posso dirvi che è fantastico perché non è solo una corsa ma è una festa e non solo si può correre ma si può anche camminare quindi è aperto a tutti per scoprire tanti angoli nascosti della splendida Cagliari. Vi aspetto il 9 settembre 2023 a Cagliari. La nona edizione ripropone la classica formula originale con la corsa a 10 km e la camminata a 6 km in contemporanea. Tra le novità di quest'anno, oltre al ritorno di sua mestà a Calcaterra, ci sarà la consegna di una medaglia finish a tutti coloro che porteranno a termine la gara competitiva. All'insegna di una manifestazione che riesce a fondere il piacere dell'agonismo con il gusto della scoperta o riscoperta di scalinate, portici, ponti, viuzze e gallerie del capoluogo tra Stampacea e Marina, Villanova e Castello con gran finale al bastione San Remy. E come lo scorso anno Cagliari Urban Trail promuove il progetto Una Città Senza Barriere per l'abbattimento delle barriere architettoniche iniziativa che coinvolge attivamente il comune e l'associazione FISPES. Bene, io termino qua, avvito appuntamento alle prossime edizioni perché non c'è la c'è il sito tcs.tv oppure il canale ufficiale su YouTube della nostra televisione. Grazie! Grazie!